Come vedete qui, l'argomento, il tema, è poesia ottomana. Poesia e ottomana sono due termini, perché poesia e perché ottomana. Prima di tutto, ottomano, forse avete un'idea di cosa significa ottomano? Avete già sentito un termine che ha a che fare con ottomano? L'ottomano è anche il divano, no? In alcune lingue. Anche in italiano si dice l'ottomana? Quando si straia, si straia, si siede, no? Ottomano, vi dice qualcosa? Impero ottomano, ad esempio, esatto. Quindi parliamo di un'epoca che è precedente alla Turchia moderna, no? L'impero ottomano, fin quando dura, magari sapete anche questo, siete bravi? 1500? No, molto di più. Però era il periodo della massima espansione, 1571, diciamo, quel periodo del XVI secolo. No, dura molto di più, dura fino al XX secolo, 1923. E quindi abbiamo, vi faccio vedere un attimo. Ecco qua, si vede? Sì. Ecco, questo è l'impero ottomano. Appunto, questo è nel XVII secolo, quando alcuni territori erano già persi. vedete quanto è grande, quanto si estende dai Balcani alla penisola arabica, dal Maghreb fino all'Iraq. Quindi copre una gran parte del territorio che voi studiate, sia turco che arabo. e che, naturalmente, questo impero ottomano, come anche gli altri imperi, quello romano, quello asburgico, erano imperi multiculturali, per forza. E anche la lingua, la lingua ottomana era una lingua mista, diciamo, che aveva molti componenti arabi e persiani. La storia stessa, la storia culturale, sempre in contatto con le altre civiltà musulmane, era soprattutto un impero musulmano, in contatto con le culture, soprattutto, araba e persiana. E quindi anche e soprattutto la letteratura, che in verità un po' si basa, o molto si basa, sulla letteratura persiana e poi più remotamente anche su quella araba. L'impero ottomano finisce, abbiamo detto, negli anni venti del ventesimo secolo e c'è una rottura, questo lo imparerete nei corsi di storia, non parleremo qui di queste cose, però c'è una rottura storica, politica, ideologica, via da un fondamento dello Stato islamico a uno Stato laico, è uno Stato europeo voluto dal fondatore della Turchia moderna, Mustafa Kemal Ataturk, che forse avete già sentito come nome. E anche la lingua è stata riformata, la lingua è stata riformata con una riforma linguistica radicale, la più brutale forse del mondo, in parte riuscita, in parte no, a parte cambiata la scrittura, la lingua ottomana si scriveva come si scriveva, pensate voi, in caratteri arabi, come tutte le altre letterature lingue del musulmano. Ataturk, naturalmente, l'ha cambiato in caratteri latini, come sapete oggi il turco si scrive in caratteri latini, ma anche la lingua stessa è cambiata, molte parole arabe e persiane sono state espulse, c'è stata una purificazione linguistica. Questa cosa vuol dire per la letteratura? Che la letteratura ha all'improvviso un altro strumento linguistico a disposizione e la generazione e le generazioni che seguono non hanno più accesso alla letteratura del periodo ottomano. La generazione, i vostri coetanei turchi, non capiscono la letteratura ottomana solo del XIX secolo. è incomprensibile, non solo per la scrittura, anche se fosse trascritto in caratteri latini, non capirebbero, perché il lessico è talmente radicalmente cambiato. Questo è molto importante per capire in generale. Pensate, è una tragedia in verità, come se voi non capiste manzoni. Oddio, a volte non si capisce, è vero. Però si capisce, si legge, si capisce, sì. Come no? Ecco questo come prefazione, praticamente. È molto importante. Quindi ottomano, abbiamo chiarito più o meno, poi ne parliamo ancora di cos'è questo ottomano. Quindi è la fase precedente alla letteratura turca. Se noi vogliamo capire la letteratura turca, anche quella contemporanea, anche se c'è stata questa rottura culturale, politico-ideologica, noi dobbiamo comunque sapere qualcosa sulla letteratura ottomana. E per questo motivo il corso di letteratura turca 1 ha come argomento la letteratura ottomana. No? È turco solo un po'. Vedrete, anche la lingua, ci sono moltissime parole arabo-persiane, la struttura è più o meno turca, i verbi sono in turco, però lessicalmente ci sono meno parole di origine turca che di origine arabo-persiana, ad esempio, in una poesia, qualsiasi. Lo vedremo. E anche culturalmente è molto vicino alla cultura soprattutto persiana. Detto questo, andiamo alla seconda parolina del titolo, del sottotitolo del corso, poesia. Perché poesia? Magari non vi piace per niente la poesia. Perché ho scelto la poesia? Per un motivo molto semplice. 98% della letteratura ottomana è poesia. Cioè praticamente la letteratura ottomana si esprimeva in poesia. Anche pezzi letterari come cronache storiche addirittura, militari, erano scritte in forma di poesia. Romanzi epici, romanzi d'amore, erano lunghissimi poemi. La prosa praticamente non esisteva e nasce solo nel XIX secolo con l'influenza europea. Cioè l'Europa, con questo avvicinamento già nel XIX secolo verso l'Europa, fa sì che si adattano anche dei generi letterari di prosa. Il romanzo, il teatro, tutto questo non c'era. Una specie di teatro popolare c'era, ma sempre in poesia. Quindi noi per forza dobbiamo parlare di poesia. Poesia può essere difficile da capire, però vediamo. Poesia ottomana può essere ancora più difficile da capire perché è molto lontano, però con uno sforzo insieme lo faremo. E cosa faremo in concreto in questo corso? Le prime lezioni saranno dedicate, come questa odierna, a collegare la detentatura con la società. Non solo questa lezione, anche le prossime due o tre. Perché senza capire la società non capiamo l'arte. L'arte in generale è sempre collegato con la società in cui si evolve, in cui nasce, in cui viene creata. E quindi se non capiamo la società non possiamo capire la sua letteratura. Tutto questo resto adesso lo tralascio e lo vediamo un'altra volta. Vedete che metto qui dei temi. Magari ritorniamo, o ritornate voi anche su questo, perché quando facciamo un tema di questo genere voi vedete qui anche dei nomi, dei numeri, cosa sarà? Sono degli riferimenti bibliografici, cioè sono i cognomi di autori e l'anno in cui è uscito, così si fa un riferimento bibliografico, che alla fine vedrete in questa bibliografia. Ad esempio abbiamo Andrus & Kalpakl 2005, ho visto sopra, vero? Oddio, dov'era? Andrus & Kalpakl 2005. Noi lo cerchiamo sulla bibliografia e lo vediamo qui. Andrus & Kalpakl 2005, il libro si chiama The Age of Beloveds, Love and the Beloveds of Early Modern Ottoman European Cultural Society. Questo è un bellissimo testo, questo si legge praticamente come un romanzo, è molto bello, non è un testo, è un testo scientifico, però introduce appunto alla società e alla letteratura e ve lo consiglio caldamente, è molto molto bello, veramente bello da leggere. E dal titolo Love, Beloved, io volo tre volte, capiamo che la poesia ottomana ha l'argomento esclusivo amore, è una poesia di amore e basta praticamente. Anche se parla di altre cose, vedremo che parla di Dio o del sovrano, perché c'è anche una poesia politica, magari che fa panegidico del sultano, parla in termini di amore, cioè presenta il sultano come un amato, ad esempio in questo, o Dio come un amato. Quindi la strategia della poesia ottomana è sempre amore. Vediamo un attimo questo libro qui adesso. Questo è il nostro libro, The Age of Beloveds, abbiamo già letto il titolo e il sottotitolo, lo trovate anche in biblioteca. E vediamo questa illustrazione intanto per introdurci. Vedete qui due persone, qualcos'altro, non so che cosa, ditemi voi. Cosa vede? Una delle due persone? Tenga un sas. Quale persona tiene un sas? Un sas è uno strumento musicale. No, non è un sas. Potrebbe essere, però se lo tenessi così è un po' strano, e poi non c'è il buco oppure non ci sono le corde. Non è un sas, quindi non è uno strumento musicale. Cosa vedete ancora? Uno dei due sempre più importante, quale dei due? Il due. Questa a destra, sì. Perché sembra più importante? Ottima osservazione. Perché ha il turbante in testa? Perché? Il modo in cui hai messo il turbante? A me piace più quello di sinistra. Non so, forse no. Sì, e anche perché è più grande, ti misura. Giusto. E poi che altro è in confronto all'altro personaggio a sinistra? Come? Ah, interessante. Viene servito? Per la postura dice e anche per le... perché viene servito. cosa viene servito? Eh, del vino, sì. Siamo già vicini. Bene. Viene servito il vino. Bravissimo. Quindi, la persona a sinistra non ha un sas, ma cos'è? Una? Una borraccia, sì, esatto. Ha una borraccia, non so come dire, un contenitore che contiene liquido e che in questo caso, anche se non lo vediamo, è vino. Vedremo poi questo. È vino. assolutamente vino e nient'altro che vino. Quindi, viene servito. Lo vediamo perché la persona a sinistra porge la mano, la persona a sinistra ha questa cosa, questa, come si chiama, borraccia, e invece l'altro beve. un altro motivo si vede che è più importante la persona a destra. una questione anagrafica, una questione anagrafica, secondo me, ora, forse qua non si può dire, ma, come età come siamo? Più vecchi. E' più vecchio quello a destra. Ora, non dico che la viccaia fa più importante, no, non volevo dire questo. Però, dà un certo peso, no? Diciamo così. Assolutamente sì. Che altro vedete? quindi abbiamo definito di più adesso il personaggio a destra. E' un uomo con la barba un po' già maturo che sta bevendo in formazione supplementare vino. Vediamo un po' la persona a sinistra che tiene la borraccia, che altro fa? Chi è? E chi può essere? si parla di poesia d'amore, eccetera, 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 eccetera. Eh? Eh? Un suddito? Poet? Potrebbe essere sì, probabilmente, perché meno importante, però queste sono interpretazioni. Cosa vediamo, però? Cosa vediamo? Non vediamo che è un suddito. E' una figura molto androgena, ma voi siete bravissimi, una figura androgena, perché di solito se chiedo questa a sinistra una ragazza a un ragazzo, cosa mi rispondono di solito? Una ragazza. E voi mi avete fregato, avete giustamente risposto, che è una figura androgena. Ed è esattamente così. Parliamo di poesia d'amore e quindi noi automaticamente partiamo dal presupposto di una relazione fra un uomo e una donna. In questa immagine però vediamo un uomo e una persona non tanto definita. Una persona che potrebbe essere femminile o maschile. Siete d'accordo o vedete più? Ditemi cosa vedete di elementi femminili e di elementi maschili, perché adesso entriamo nel discorso del gender che ci occuperà per parecchie settimane mi pare, perché è una cosa importante per capire la poesia ottomana. Cosa vedete nella persona sinistra? Cosa vedete di elementi maschili o femminili? Difficile da dire perché non siamo tanto specialisti di fashion ottomana del XVII secolo, no? Quindi non sappiamo esattamente se il turbante è femminile o maschile. Non sappiamo esattamente se il garment è femminile. Come? È più esile. È più esile come figura, quindi già questo è una cosa nel nostro immaginario femminile, no? Esatto, sì, giusto. Che altro? Cosa ha questa? Parla di vestiti lei e cosa ha il vestito di sinistra? Cosa è più cosa in confronto a quello di destra? Poi elegante. più colori, più decorato anche, più decorazioni. Tutte cose che noi di solito nel nostro pensiero binario del gender a cui siamo abituati tutti è più diciamo vicino a un gender femminile. Che altro forse ancora? Guardate i dettagli, guardate forse la mano che porge, non si vede forse molto bene. Questa certa delicatezza nel coso potrebbe essere anche stilizzato nell'arte, però potrebbe essere anche interpretato come un elemento più femminile che maschile. Invece vi dico che qui è raffigurato e questo è la tipica raffigurazione di una coppia d'amore ottomana un ragazzo. cioè questo qui è un uomo maturo e un ragazzo più giovane e questa è la tipica coppia che forma la coppia d'amore ottomana. Adesso qui siamo un po' come dobbiamo chiederci aiuta molto quello che ha detto non so posso chiedere il nome bene quello che ci ha detto Eleonora è che è una figura androgina lo vedremo nella poesia assolutamente nei testi che vedremo intanto vi anticipo il fatto che non avete ancora fatto una lezione di turco ma il turco tra l'altro anche il persiano non conosce la differenza tra maschile e femminile nel pronome personale negli aggettivi e anche negli sostantivi non c'è il genere grammaticale non esiste come in inglese solo che in inglese i pronomi si distinguono in turco neanche questo o o e basta ah turco è la lingua più facile del mondo ve lo dico dall'inizio o vuol dire sia lui che lei quindi è ideale per questo tipo di poesia non si capirà mai se una donna è un uomo ed è così vedremo poi degli esempi concreti questa è una prima osservazione molto importante adesso andiamo al di fuori dei due e cosa vedete ancora intorno come alberi sì alberi però non ho capito la seconda parola natura sì alberi natura sì 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 alberi sì che tipo di albero tra l'altro non capisce poco perché poi c'è il titolo questo albero molto alto molto un cipresso che poi verrà utilizzato come metafora lo vedremo molto spesso per l'amato o l'amata che ha la statura esile è proprio una metafora tipica della poesia ottamana per la statura esile dell'amato o dell'amata e quindi sono fuori casa sicuramente open air questa cosa qui è fuori e vi dico lo vedete forse se è andato un po' a sinistra questa natura vedete questa cosa gialla bianca che è un po' quadrata quindi tagliata forse è un prato forse un campo non so però una cosa comunque tagliata quindi questa qui non è una natura selvatica qui siamo in un in un giardino allora se 100% delle poesie ottomane sono ambigue per quanto riguarda l'amato e l'amato adesso non so non ho fatto una statistica forse ci sono ma almeno forse 80% non credetemi ai numeri comunque un gran parte della poesia ottomana si svolge in un giardino anche questo vedremo che ha dei motivi che oggi adesso non dico lo vedremo un'altra volta quindi siamo in un giardino loro due si divertono bevono in questo caso non fanno nient'altro poi nelle poesie magari ci sono altri elementi che vediamo ora perché questa torno al sul gender adesso domande fino a qui tutto chiaro sì abbiamo detto molto finora perché questa cosa del gender così strano un uomo amaturo un ragazzo più giovane ma in verità tutto androgeno quindi non si sa bene cosa prima di tutto non si tratta di una poesia omosessuale perché noi nel nostro pensiero binario noi pensiamo che quando c'è un uomo è un uomo è omosessuale è una poesia omoerotica perché si rivolge a un uomo molto spesso sì ma omosessuale è un'invenzione del XIX secolo della fine del XIX secolo è frutto di un pensiero binario appunto di gender perché si può anche esprimersi omoeroticamente in un contesto eterosessuale tutto questo era naturale nel XV XVI secolo ma per noi non lo è più e quindi è anche un'occasione per capire queste cose era naturale nel XV XVI secolo non solo nel perverso impero ottomano come qualcuno lo chiama qualcuno chiama questa poesia perversa ma naturalmente è assurdo no era così anche in Europa a quell'epoca in periodi premoderni pensate a Shakespeare ai sonnetti di Shakespeare a molte altre espressioni letterarie che sono al di là del gender maschile femminile basta e quindi dobbiamo qui un attimo cambiare atteggiamento chissà se alla fine del semestre ci riusciamo all'inizio è difficile lo capisco però voglio insistere ancora su questo potremmo intanto anche vedere provare a trovare alcuni motivi per questo strano concetto a cui non siamo abituati di gender e questo lo troviamo nella società ottomana naturalmente una di questi è chiaramente che la società ottomana era patriarcale oh grande sorpresa grazie anche le società occidentali erano patriarcali lo sono ancora in verità non è una sorpresa qui il patriarcalismo si spinge anche in periodo premoderno anche per le letterature per le società europee naturalmente ha una connotazione che non riguarda solo uomo e donna patriarcale nel senso che c'è sempre qualcuno di potere che prende le vesti di un uomo diciamo e qualcuno di suddito diciamo così che prende le vesti femminili quindi non è solo uomo patriarcale contro donna subordinata ma anche ad esempio sultano e suddito dove il suddito sarebbe la donna oppure maestro e allievo anche lì era una specie di relazione di potere oppure padrone e schiavo molto importante per l'epoca dove c'è questo rapporto uguale anche genitori e figli era basato su una relazione di potere patriarcale ora la specialità della poesia persiana e ottomana no anche questo lo vediamo in alcune poesie europee in verità premoderne è che queste relazioni di potere fra una persona superiore e una persona inferiore non necessariamente uomo e donna ma molto spesso uomo e donna viene eroticizzato cioè viene in qualche modo paragonato all'atto sessuale abbiamo qui un paragone di come i studiosi hanno analizzato le civiltà antiche per esempio la civiltà di Atene antica che viene caratterizzata per esempio qui da una studiosa che si chiama Ifa Koiz come cultura fallocratica cosa vuol dire fallocratico non lo traduco l'avete capito e quindi qui c'è un simbolo il fallo diventa un simbolo di questo rapporto di potere diventa un simbolo talmente che è esposto nelle città pubbliche questo a Delos ad esempio meno male che non c'è più tutto solo una parte era sulla strada principale e quindi era non una una dimostrazione pornografica pubblica era il contrario era la dimostrazione di potere questo termine fallocratico è adottato appunto cioè utilizzato di solito per le civiltà antiche a noi ci va molto bene perché proprio nella nostra cultura nel sistema culturale ottomano tutti questi patriarcalismo andrebbe bene però fallocrazia va meglio perché implica una continua erotitizzazione dei rapporti di potere e questo succede appunto nella poesia ottomana quindi questo è una cosa è uno dei motivi ma non ci basta per motivo che questa sia una coppia con un amato o amata ambigua androgina tra l'altro anticipo dico subito parlo sempre di amato o amata perché qui nel rapporto amoroso della poesia ottomana è necessario che noi abbiamo sempre in considerazione il fatto che sono due persone con funzioni ben precise una è attiva e una è passiva quindi parliamo con il participio presente attivo amante la persona a destra in questo caso e col participio passivo amato o amata la persona sinistra questo ha a che fare con l'eroticizzazione naturalmente però è importante perché è chiaramente distribuito nella poesia e di solito anticipo anche questo il poeta che parla di prima persona è l'amante è sempre l'amante e parla della persona amata chiarissimo l'amato non può diventare amante l'amante non può diventare amante nella poesia nella vita sì perché questo piccolo amato qui ad esempio crescerà quando cresce la prima barba questo lo dice anche in poesia non serve più come amato cioè basta è finito e poi diventerà più grande si sposerà o non si sposerà avrà bambini non avrà figli o no non lo so comunque potrà a sua volta diventare amante di qualche altro amato e questo è proprio la manifestazione culturale della società italiana perché all'interno anche di solito di un genere per due altri motivi un motivo è la cosiddetta protezione della donna nell'islam è una cosa musulmana che penso che avrete poi anche il modo di conoscere nelle lezioni di islamologia per esempio c'è una nozione di protezione di welfare possiamo dire nell'islam per lo status delle donne che sono protette questo è il termine che si usa protezione e poi vediamo cosa dite voi di questa protezione ma comunque così è il concetto che vuol dire protetto vuol dire nascosta dalla società maschile in questo consiste la protezione quindi anche il velo è naturalmente un modo di protezione della donna contro il pubblico che è maschile e questo è un altro aspetto che vediamo dopo imparerete anche io non sono specialista di questo però di legge islam eccetera non so niente però si sa che l'islam ha introdotto delle novità ad esempio il divorzio il mantenimento dopo il divorzio eccetera fa parte di questo concetto di protezione una cosa che prima non c'era una donna ad esempio che era ripodiata magari in una società pre-islamica della penisola arabica era destinata a morire se non aveva una famiglia a cui poteva tornare e invece l'islam assicura un sostentamento un mantenimento si può anche divorziare una donna non protetta fuori dalla famiglia paterna e non sposata in pratica però non aveva aveva solo altre due scelte o schiava o prostituta e quindi non c'era altra cosa e quindi una certa protezione ci voleva e questa protezione doveva essere una persona maschile ora ci intendiamo naturalmente tutte queste cose aprerebbe una discussione enorme sulla società islamica moderna sul velo eccetera e non vogliamo aprire questa noi vogliamo solo adesso scientificamente vedere che può essere uno dei motivi per cui questa poesia opera però in questo modo perché era adesso pensate impensabile no prima devo dire il secondo aspetto scusate il secondo aspetto è quello dello spazio diviso questo naturalmente vale anche per le società occidentali premoderne e ancora oggi per molte società al mondo e lo spazio si dice gendered non so come dirlo in Italia genderizzato quindi c'è uno spazio femminile e uno spazio maschile ed è ben definito si chiama had quello che divide questi due spazi si chiama had qualcuno sa l'arabo? già da adesso subito si had vuol dire confine no? si e questo è il confine fra spazio maschile e spazio femminile sono ben definiti in casa chiarissimo le architetture delle case ancora oggi le case tradizionali anche in paesi mediterranei io lo conosco da Cipro dove ho vissuto per molti anni però c'è anche in Sicilia credo ad esempio o in altri posti in Croazia ho visto dove la casa è distribuita in una parte di ricevimento per il pubblico dove gli ospiti possono accedere e una parte dove solo la famiglia ha accesso in verità anche oggi cioè di solito non invitiamo gli ospiti nella camera da letto no? e quindi è già è anche diviso in verità oggi però era molto più diviso addirittura in architetture contemporanee in alcuni paesi è ancora diviso con una porta quello che chiamiamo il haremlik da qui il famoso termine harem che conoscete che è in verità harem vuol dire proibito vuol dire proibito per l'esterno per il pubblico soprattutto per il pubblico maschile e quindi è più uno spazio femminile e il selamlik come si dice in ottomano il selamlik che sarebbe la parte pubblica predominante maschile dove le donne hanno accesso però solo accesso limitato e solo in alcune funzioni come madre come sposa ma non che possono entrare così ciao ciao ci sono mi chiamo Fatima no non era possibile no era molto chiaro e lo spazio pubblico è esclusivamente maschile c'erano spazi pubblici pubblici come questo come bellissima cosa c'è chicissima immagine ottocentesca di cosa cosa vediamo qui non guardate tanto la donna nuda ma quello che c'è dietro è un bagno sì è un bagno è un bagno come si chiama il bagno nel un hamam sì esatto un hamam questo è un hamam e vedete sono donne è chiaro sono divisi i spazi sono divisi ancora oggi nel hamam gli spazi sono divisi o i giorni sono divisi o proprio l'architettura è già fatta così che c'è una parte per uomini e una parte per donne ma è possibile metterli insieme no e quindi questo era una parte un pezzettino di diciamo di spazio semi pubblico accessibile alle donne dovevano pure andarci però andarci dove andare in carrozza chiusa eccetera quindi non è così ovvio protette è ovvio e quindi molto importante adesso se mettete queste due insieme queste due cose insieme protezione e spazi genderizzati come chiamo così invento le parole è chiaro che un poeta non poteva esporre al pubblico un'amata femminile era semplicemente impensabile questo non vuol dire che il poeta era poverino eterosessuale era innamorato di una donna e voleva cantare le bellezze di una donna però in questo contesto doveva tenersi più sull'androgeno oppure sul maschile che era accettato cioè il discorso omoerotico era accettato e quindi noi abbiamo poesie con un discorso omoerotico che però non sono omosessuali forse avete capito un poco la differenza quindi attenzione questo già un po' più quindi lo spazio ah sì lo spazio perché non voglio limitare tutto e questo è il bellissimo libro questo bellissimo libro che dice il sottotitolo in Ottoman and European Culture and Society cioè qui questo libro fa sempre un paragone con società europee soprattutto quella inglese del periodo soprattutto elisabetiano ma anche fiorentino e veneziano e più che altro del quindicesimo e sedicesimo secolo e anche i spazi nelle culture occidentali erano fino a un certo punto divise naturalmente dal genere no? però anche in altri altri ambienti anche nella non lo so le poetesse perché parliamo anche di poetesse perché ci sono anche donne poetesse anche in periodo ottomano naturalmente cosa facevano loro è molto interessante non abbiamo il tempo di farlo oggi ma è molto interessante perché in tutto questo contesto patriarcale fallocratico come si comporta una donna che scrive poesie e ce ne erano e sono famose e sono conosciute anche e sono lette quindi un problema però questo lo discutiamo più avanti magari anche in Europa c'erano molti molti poetesse però per esempio a Venezia molti poetesse erano cortigiani guarda caso quindi erano prostitute prostitute di lusso naturalmente accettate dalla società però appartenenti a un certo spazio e a un certo ambito quello del servizio sessuale ed erano però donne molto molto colte che scrivevano poesie che erano riconosciute ma erano donne specifiche che già avevano un ruolo nello spazio pubblico specifico accettato ma specifico e quindi bisognava guadagnarsi questo tipo di mestiere per questo motivo dello spazio diviso anche nella società patriarcale europea e quindi non diciamo naturalmente non cadiamo nel pericolo di attribuire tutto a un oriente vec come si dice retro come retrogrado o a un islam retrogrado no non riduciamo le cose a questo perché è molto ma molto più complesso per questo questo libro è così interessante perché ci fa vedere che i parallelismi anche nelle società europee dell'epoca ora cosa fa la critica letteraria con questa strana poesia e questo è molto interessante questa poesia abbiamo detto l'amato o l'amata potrebbe essere una persona vera immaginata oppure vera può descrivere un amore reale fra due persone non specificiamo più il genere fra due persone e e quindi un amato un amata che esiste nella mente una persona un essere umano può essere anche non un essere umano abbiamo detto ci può essere anche il fatto che io descrivo come poeta un amato con la bellezza proprio del corpo gli occhi la bocca il corpo le braccia le mani tutto ma alla fine intende e questo il lettore a un certo punto riesce a capire intendo Dio questo si chiama misticismo si chiama poesia mistica esiste questo tipo di poesia sempre con la strategia erotica però con un argomento mistico religioso quindi Dio raffigurato come amato parleremo molto di poesia mistica e il terzo livello è quello abbiamo detto del panegirico c'è anche una poesia politica una poesia di occasione per esempio di commissione il sultano dice fammi una bella poesia sulla mia conquista dell'Iraq fa una bella poesia e questa bella poesia sulla conquista dell'Iraq stranamente inizierà con il mio amato con le labbra carnose e la statura di cipresso e le guance di rosa è andato in Iraq e il mio amato con bla 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 eccetera e il mio amato e la mia amata non si capisce dal testo in turco e quindi uno pensa che qua sta elogiando una persona amata e solo dopo 15-16 versi il poeta con un verso di passaggio che ha anche un nome fa capire che questo mio amato si chiama Mahmoud il grande e appena conquistato Bagdad e dopo continua per altri mille versi con cosa ha fatto con questa spedizione militare il sultan Mahmoud quindi anche il panegirico è costruito sulla poesia di amore qui l'amato e l'amata diventa quindi il sultano il poeta è sempre l'amante e il sultano nella realtà nella società infinitamente più alto di lui in verità nella poesia è l'amato quindi l'amato non è sempre subordinato l'amato può essere anche un sultano e quindi è l'amico diciamo l'amato e quando faccio una poesia sul sultano faccio una poesia sul mio amico io amo il mio amico e lo descrivo come una persona amata ma anche in termini adesso quando è un panegirico non proprio pornografici però ci sono tanti tanti anche poesie sessuali con tendenze e quindi la strategia è sempre la stessa si divide poi in questi tre livelli la poesia ottomana ripeto un livello erotico emotivo lo chiamiamo che è poi la strategia per tutto un livello mistico religioso dove l'amato l'amata è Dio e un livello panegirico lo chiamiamo di potere dove l'amato l'amato è una persona di rango superiore sociale che può essere sultano un principe un maestro una qualsiasi cosa queste persone l'amato l'amata terreno Dio anche il profeta ci sono anche poi dei suoi profeti che diventa l'amato oppure la persona di potere il sovrano sono e possibilità in cui possono essere personalizzati l'amato l'amata chiaro? già diventa più complicato adesso però seguiamo ancora vero? perfetto ora cosa fa torno alla domanda cosa fa la critica letteraria soprattutto di un pudico XIX secolo nell'ottocento leggendo poesie dove la descrizione era purtroppo di un amato maschile a volte non si può non capire anche se non c'è il pronome personale su gender però a volte è maschile c'è poco da fare naturalmente hanno trasferito queste tre possibilità di interpretazione della poesia ottomana in un solo canale ed è quello mistico religioso cioè praticamente si è sostenuto per moltissimi decenni dalla nascita della critica letteraria moderna alla fine dell'ottocento fino agli anni sessanta del ventesimo secolo si è sostenuto che la poesia ottomana sia solo mistico religiosa quindi l'amato è Dio e non abbiamo pericolo di parlare di cose strane conce immorali questo concetto dell'unica interpretazione possibile della poesia ottomana anche persiana in chiave mistica è cambiata negli anni sessanta settanta ma soprattutto all'estero cioè fuori dalla Turchia è uno dei grandi Walter Andrews è stato uno dei più grandi che ha rivoluzionato questa interpretazione Walter Andrews adesso non so quanti anni avrà io spero che sia vivo è comunque molto anziano quindi opera negli anni sessanta settanta quando era giovane del ventesimo secolo e Merkalk è un suo allievo tra l'altro quindi già una generazione dopo hanno rivoluzionato la visione l'approccio alla poesia ottomana facendola quella che è espressione della società in cui è nata perché questa è la poesia in tutto il mondo questo è universale non può essere una società non può esistere una società solo mistico religiosa c'è una società che vive che ama che fa sesso che beve alcol anche se sono musulmani e questo tutto viene espresso nella poesia ottomana quindi è una riflessione della società come tutte le altre poesie del mondo e questa cosa è anche arrivata poi in Turchia dove abbiamo grandi studiosi adesso con importanti lavori ancora negli anni ottanta credo è uscito un importantissimo libro in Turchia col titolo l'immagine del perverso della perversione nell'amato della poesia ottomana è un importante libro perché in verità analizza questo problema gender però negli anni ottanta in Turchia non era possibile analizzarlo in un modo in cui lo stiamo facendo adesso e quindi dà tantissimo materiale questo libro però lo rappresenta sempre come una perversione usa proprio la parola perversione sapuk in turco e questo è interessante perché c'è la coscienza la coscienza dice l'essere conscio di questa varietà di gender e della ambiguità di gender che è insita della poesia ottomana però ha bisogno di una interpretazione morale aveva bisogno o si interpreta perversa perversita perversione oppure ci si rifugia nel mistico religioso quindi abbiamo superato questo però naturalmente le cose si incrociano c'è il mondo del mistico religioso e questa è la cosa più bella adesso e il mondo reale del festino del vino eccetera dell'alcol si toccano abbiamo questa bellissima miniatura non so se si vede abbastanza guardatela con calma cosa vediamo qui abbiamo innanzitutto abbiamo tre livelli un livello inferiore un livello medio e un livello superiore questi tre livelli sono tre livelli simbolici diciamo così intanto ci riguarda soprattutto quello inferiore e anche quello medio facciamo oppure ditemi di nuovo quello che vedete lo dice mystical wine party ok quindi c'ha qualcosa un'interpretazione c'è purtroppo ho lasciato qua questa didascalia ma cosa vedete prima di tutto mi piace mi piace allora c'è la divisione dei uomini e donne le donne sono più sopra dice lei e poi aggiunto mi sembra e questo mi piace molto questa aggiunta mi sembra le sembra di vedere donne vero ma dove vede delle donne si è persiano che è no mi dispiace queste donne le presunte donne hanno qualcosa dietro sulla si hanno delle ali lo vedete sono angeli quindi sempre androgini non sappiamo se angeli sono maschi o femmine secondo voi comunque sono angeli quindi questo per questo voglio dire l'ultimo livello magari arriveremo anche alla fine delle interpretazioni di questa immagine questo è il cielo questo raffigura il cielo raffigura la parte divina di questo festino che invece è molto terreno e quindi sono delle degli angeli che fanno musica tra loro anche loro però sono delle non umane però lei ha ragione naturalmente della divisione di donne e uomini perché su questa immagine non ci sono donne molto semplice che è normale purtroppo è così cioè che abbiamo imparato è così questo è uno spazio di cosa stanno facendo qui si capisce ballano ballano dove ballano ma sì questo questo in giallo no questo questo sicuramente è una specie di danza suonano suonano dove suonano subito sopra qui questo è una specie di violino e si chiama che man che man questo potrebbe no questa è un'altra cosa questo l'abbiamo visto prima che sembra un ballo ma ma non lo è una borraccia lasciata lì le vediamo altre borracce tra l'altro dove vestito verde e dove la borraccia sinistra c'è un braccio vero che esce fuori che tiene chi è questa persona che tiene la borraccia sarà un servitore esatto si chiama copiere in poesia ed è il tipico amato ve lo dico subito avremo molte poesie dove l'amato è un copiere c'è una persona che versa il vino e l'abbiamo visto già no? qui no abbiamo visto qui questo è un amato sa chi si chiama sa chi vuol dire copiere quindi anche abbiamo qui un copiere questo vestito non solo di marrone abbiamo altri torniamo alla musica questo è tipo il gruppo musicale il tamburo non si capisce molto bene gli altri strumenti forse qui un flauto insomma musica ballo e vino tutto quello che ci vuole per fare un bel party una festa questa è una festa naturalmente un party magari anche il cibo c'è perché manca il cibo ah qui c'è un flauto è uno che dorme no? non dorme secondo me cosa è successo con questo? cosa succede? in tutti i buoni in tutti i parti che si rispettano? qualcuno crolla no? è ubriaco naturalmente è ubriaco vedremo che questo è molto importante l'essere l'ubriaco quindi qui abbiamo di tutto ballano suonano bevono anche questo in verde non sta tanto bene secondo me e poi sopra abbiamo già qualcuno a letto e gli altri che osservano insomma qui è una vera un vero festino chiamiamolo così tutto questo è una tipica scena di una festa che può essere descritta in una poesia ottomana non c'è nessun problema ne vedremo tante poesie così tutto questo però potrebbe anche essere interpretato in una chiave mistica religiosa e lo suggerisce l'ultimo livello degli angeli perché qui c'è il cielo sopra e quindi in verità qui il pittore che raffigura una scena reale e sicuramente queste scene sono successe naturalmente però magari la interpretiamo in versione mistico-religiosa cosa succede per il mistico cosa cosa vuole cosa è il misticismo cosa fa adesso il corso del misticismo vabbè sarebbe per tutto il semestre in una frase in una frase misticismo bella cosa impresa no il mistico di tutte le religioni cosa 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 qual è il suo obiettivo il mistico è dell'idea sia della religione cristiana ebraica oppure musulmana non importa il mistico è dell'idea che prima di nascere noi siamo uniti con Dio a Dio quando nasciamo in questo brutto mondo crudele noi veniamo separati brutalmente da Dio quindi per tutta la nostra vita noi non facciamo altro che ricercare Dio non facciamo altro che provare a ricongiungerci con Dio questo fa il vero mistico e in verità solo facendo cosa possiamo ricongiungerci questa è la triste verità morendo e questo si chiama proprio vivere nel morire cioè iniziare a morire a vivere dopo la morte la vita dopo la morte è per il mistico quella assolutamente quella vera perché solo lì possiamo ricongiungerci ora però siamo costretti a vivere su questo mondo e proviamo di tutto parlo da mistico adesso proviamo di tutto per ricongiungerci a Dio durante la nostra vita per fare questo ci sono diversi metodi leggiamo le sacre scritture preghiamo tanto ok 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 tutto questo però il vero mistico di diverse religioni ma soprattutto il mistico islamico conoscete forse la parola sufi che è un mistico molto diffuso nella religione islamica però anche altre confraternite hanno altri metodi per ricongiungersi con Dio temporaneamente provvisoriamente e questo è la cosiddetta estasi cioè noi ci mettiamo in estasi e quindi siamo vicini a Dio il famoso pazzo di Dio che si chiama come si chiama pazzo non so in italiano come si chiama un pazzo che sembra per gli altri sembra un pazzo in verità è uno che solo ha fatto qualcosa per entrare in estasi e per essere vicino a Dio cosa c'è per entrare in estasi? ecco e l'alcol ecco eccolo qui il ha detto ancora che altro? droghe di tutti sì certo naturalmente adesso non vediamo droghe specifiche però naturalmente sono molto importanti rapporti sessuali anche esatto quindi ci sono rapporti sessuali mistici altre cose che vediamo qui ripetete solo quello che abbiamo letto prima la musica ci porta in estasi e accompagnando il corpo con la musica quindi la danza questa è una cosa che sappiamo che abbiamo visto voi i famosi dervisci li avete visti di avvisci rotanti qualche no? avete già sentito questi qua che fanno sono proprio suffi che fanno questa danza adesso una mano al cielo non so quale a destra forte quella verso poi vanno adesso adesso non posso farlo grazie a Dio vi risparmio questo spettacolo ma comunque si girano sempre più veloce 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 è una cosa pazzesca e adesso è diventata un'attrazione turistica è una performance si può portare anche in teatro addirittura diventare una coreografia in verità in verità è un modo per entrare in estasi e quindi per essere temporaneamente in questa misera vita su questo crudele mondo essere temporaneamente uniti a Dio a questo serve questa pazzia di girarsi provate a girarvi così per delle ore senza fare il spot così con la testa no? come si fa il balletto no? guardate solo quello dopo un po' veramente siete no? e allora si vi sentirete vicini a Dio questo è il senso del festino lo chiamano del festino mistico dove si beve tanto vino dove si fa musica dove si balla eccetera ed esattamente come se questa immagine fosse una poesia le poesie sono tutte quelle che noi leggeremo almeno tutte le poesie sono costruite in questo senso qui quindi sono una descrizione di un'estasi amorosa che poi il poeta lo fa con diversi modi no? la descrizione della persona del viso eccetera e che poi può essere interpretato a seconda la circostanza a seconda i gusti direi quasi ma non solo i gusti perché alcune poesie sono senza dubbio poesie mistiche religiose perché lo fa capire il poeta in qualche verso lo capiamo qua parla di Dio in altri è proprio una distorsione interpretativa se vogliamo farlo diventare una poesia mistica ci sono poesie soprattutto nel periodo più tardo diciamo diciottesimo secolo dove sono così gioiose così terrene così vicine alla vita così realistiche che è impossibile che sia una poesia mistica cioè non lo fa vedere il poeta che è una poesia mistica non voleva scrivere una poesia mistica in quella circostanza ad esempio e quindi è una poesia che si può interpretare solo secondo il livello emotivo oppure lo fa capire per altre metafore ad esempio di regalità di corona di oro che parla invece di un amato sovrano allora abbiamo la terza via tutto questo è possibile domande su questo se l'amato ha il potere di respingere l'amante ha più potere dell'amante e nella poesia sì esattamente e nella poesia ha lui il potere lui ha tutto e infatti quando abbiamo una poesia panegirica si adatta proprio all'immagine dell'amato come sultano giusto è molto facile fare il passaggio in una poesia panegirica dall'amato mio bello eccetera è il mio sultano perché qui nella realtà è anche così in Dio non è così anche in Dio Dio è l'amato abbiamo detto giusto quindi chi ha il potere Dio è addirittura è addirittura onnipotente di nuovo quindi l'amato assolutamente posso dire di sì ha il potere il potere è dalla parte dell'amato ora questo si colloca però e qua diventa complicato in un contesto sociale patriarcale dove naturalmente il poeta nella vita reale è un maschio patriarcale eccetera che sì che ha più potere magari della donna se è una donna che descrive che sta descrivendo quindi è complicato lo capisco però nella poesia e quando l'amato si corrisponde a entità come entità divine oppure di potere ha effettivamente il potere nella poesia ha sempre il potere sì qui in verità sì è un povero copiere è un servitore dice lei non è come no ma se si innamora di un bel garzone di un bel di un bel cameriere non so lei è la cliente del ristorante il cameriere è il suo servitore ma lei si innamora del cameriere perdutamente non corrisposto chi ha il potere qui il cliente o il cameriere il cameriere naturalmente in una relazione d'amore è l'amato che ha il potere non l'amante quindi per il resto abbiamo parlato di protezione di welfare islamico di 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 spazi genderizzati ok tutto chiaro questo il contesto sociale più o meno poi ne parliamo ancora che questo non si esaurisce in una lezione questa è solo la prima lezione quindi abbiamo molto da fare ancora qua e adesso faccio una cosa interrompo questo e vado adesso già adesso oggi sul nostro primo testo aiuto facciamo anche nella prima lezione un testo questo è su Moodle e vi dico subito una consolazione c'è una specie di traduzione anche sulla seconda pagina specie perché è mia ed è completamente poi forse anche sbagliata non sbagliata nel senso concettuale ma sbagliata nell'italiano e quindi potrebbe ma comunque da un'idea però prima vogliamo guardare questo testo intanto dico che questa è una poesia e si chiama Gazelle e qui già faccio un'altra cosa importante da dire nella prima lezione quindi io definisco il tipo di testo che leggeremo in questo corso perché poesia ottomana è un po' troppo non possiamo leggere tutta la poesia ottomana noi leggeremo solo un genere della poesia ottomana perché perché è il genere più diffuso è la maggioranza assoluta di tutte le produzioni poetiche della letteratura ottomana sono dei cosiddetti Gazelle e quindi un Gazelle cos'è? un Gazelle lo scopriremo lentamente ma questo ad esempio è un Gazelle ecco questo Gazelle ha anche un autore questo autore si chiama Nedim è un'altra informazione da questo titolo che do qui e che muore nel 1730 quindi è un poeta di un periodo relativamente tardo della storia ottomana parleremo anche di questo periodo di questo Nedim perché è un periodo molto importante un periodo i primi 30 anni del XVIII secolo sono un periodo di relativa pace tra diverse guerre sia occidente soprattutto con Venezia sia oriente soprattutto con l'Iran ha mantenuto un certo periodo di pace e quindi di grande fioritura artistica per questo si chiama anche o il rococò ottomano come viene pittorescamente chiamato dal punto di vista eurocentrico coloniale europeo oppure anche dagli stessi turchi il cosiddetto periodo dei tulipani è un poetico no questa cosa perché è un'epoca in cui si importano i tulipani cioè i tulipani diventano la super moda dell'epoca si importano sì dall'Olanda come oggi noi portiamo dall'Olanda i tulipani i tulipani in verità arrivano dall'Iran però però poi sono soprattutto coltivati in Olanda e diventano un hit nell'impero ottomano e l'inizio 700 come? di molti sì 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 e il simbolo lo vedete come simbolo in una forma stilizzata un tulipano un po' magro un po' lungo no così un po' anche ondulato come la figura dell'amato che è ondulata e snella come la figura dell'amato e così questo adesso purtroppo non ho un'immagine così veloce peccato potevo pensarci e questo tulipano diventa la mania dei ricchi soprattutto cioè si coltivano tulipani dappertutto sul bosforo in tutti i giardini tulipani di tutti i colori si creano nuovi tulipani si creano nuovi nomi poetici per questi tulipani vengono dedicati poesie al tulipano il tulipano come amato e tutto questo cioè il tulipano sopra di tutto questo naturalmente porta sì che l'elite si allontana un poco dalle realtà come succede spesso in una società autocratica e risulta poi nel 1730 in cosa come queste cose finiscono sempre una ribellione naturalmente c'è una grande ribellione in questo caso del cosiddetto patrona Halil dove muovono tutti il sultano il gran vizir lo stesso Nedim muore scappando sui tetti pare così l'aneddoto dice quindi anche Nedim che è il poeta di corte del sultano Ahmed III che sarebbe il sultano principale di questo periodo dei tulipani Nedim muore come tutti gli altri per il re tulipani e lo chiamiamo in turco la le devri prima lezioni di grammatica turca la le vuol dire tulipano devir è il periodo viene costruito in un modo interessante in turco cioè prima il tulipano e poi il periodo quindi a rovescio e quindi il periodo dei tulipani la le e il tulipano stranamente troviamo molto pochi tulipani nelle poesie troviamo poesie dedicate al tulipano però non è una fiore molto utilizzato si vede sì 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 certo però i fiori molto più utilizzati il fiore più utilizzato è la rosa cioè la rosa è proprio come in tutte le poesie del mondo quindi abbiamo sempre la rosa guardate subito che questi caselli e questo vale per tutti i caselli così guardiamoli ancora un po' da fuori ancora pochi minuti chiudo subito questo nedim lo vediamo nell'ultimo verso anche nell'ultimo tistico diciamo così no? vedete questo nedim le poesie persiane i gazelle ottomani hanno sempre il nome del poeta veramente è lo pseudonimo del poeta nell'ultimo verso vediamo inoltre che questi gazelle sono costituiti da tistici in questo caso sono nove tistici tistici vuol dire un verso costituito da due semiversi e mistichi tutto il resto lo vediamo la prossima volta questo che vi prego di fare alla prossima volta è di vedere questa poesia lo vedete sotto ho una cartella che si chiama gazelle quindi tutti i testi che leggeremo li metterò man mano li metterò in quella cartella lì e sotto cartelle con il numero delle lezioni vedete c'è una cartella con scritto lezioni 1 e 2 vero lei che è già su Moodle e vedrete questo gazelle qui quindi dovete per forza adesso entrare su Moodle scaricare questa poesia e non solo scaricarla perché si tende a scaricare da Moodle ma non guardare le cose e guardare magari anche e aprirlo e guardate un po' sia il turco che non capiamo un H ancora oppure e anche guardate un po' anche l'italiano e provate un po' a mettere insieme questi due testi il turco e l'italiano così quello qui vedete e con le vostre idee ci vediamo poi la prossima settimana grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.